salve bella gente qui gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di don't starve però questa vikinga adesso ha fame o stomaco mi prenderò io cura di te adesso guardate guardate perché dobbiamo sempre iniziare don't starve così sempre nel peggiore dei modi comunque guardate mi sono fatto un nuovo amico il katkun finalmente mi aiuterà oh mi ha anche rubato il bastoncino vedete niente più problemi di inventario e guardatelo lì uh che ha saltato la preta e dammi questa preziosissima carne questa non è per te è per me ah sì ora il katkun è un buon amico che mi aiuterà anche a sopravvivere al meglio comunque mi serve spazio cosa posso lasciare la palla che ormai non mi serve più un paio di fiori e ora volevo ascoltare i vostri consigli uno di voi mi aveva detto che potrei utilizzare i maiali per prendermi della carne e penso che questo è proprio quello che farò quindi adesso andiamo a raggiungerli per cercare di distruggerli la casa e sfrattarli voglio proprio sfrattarli dalle loro case comunque no non va bene resisti resisti qui vicino c'è una tana di ragni e quindi forse possiamo recuperarci un po di fame prendendo la carne di ragno ok qua ne ho una buttiamo via la roccia che penso non mi serva per ora e uccidiamoli tutti ok perfetto e adesso facciamo fuori anche la loro tana così non ne nascono di nuovi e ora dobbiamo fare in fretta allora adesso quello che ci vuole è un pocolare e lo metto qui oh katkun sei tornato delizioso ma cosa fa ma cosa fa ha gli spasmi grazie per me no 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 dammi qua delle bone shards grazie no ma queste sono robe mie no sono tutte mie capito mi servono per curarmi oh guardate guardate attaccato un altro grazie avete visto il katkun mi aiuta a sopravvivermi da un sacco di cibo vedo che tu hai i miei stessi interessi gatto è il perfetto amico di una vichinga perché entrambi siamo interessati alla carne guardatelo guardatelo quanta carne mi ha dato che buon amico veramente chi ha detto che il cane è il migliore amico dell'uomo il katkun è il miglior amico dell'uomo va bene però è ora di muoverci di entrare nella foresta delle birch le maledette birch quel posto io lo odio non mi fido di quegli alberi continuano a fissarmi lo so che loro nascondono un terribile segreto maledette birch un giorno avrò qui con una torcia e boom fuoco fuoco ovunque comunque manca poco che arrivi notte allora devo un po destreggiarmi in fretta mi viene male a vedere tutte quelle carote lì che non posso mangiare mannaggia va bene ma ora faremo il lupo cattivo che sfonda le case dei maiali vedete fuori a me serve tutta la vostra roba oh e scappate scappate dalla vichinga famata ancora per poco dammi la tua carne dammi la tua carne torna qui ok il primo maiale mi sa che l'abbiamo sistemato carne deliziosa bellissima carne allora buttiamo via i semi chi li vuole i semi non siamo mica persone dal pollice verde no noi siamo persone dal pollice rosso e sfondiamo intanto le case di questi maiali perché ovviamente queste case le voglio ripiantare vicino alla mia base ne sfondiamo ancora un'altra e poi mi sa che uccideremo tutti i loro abitanti per farci ancora un po di carne guardate che hanno paura del buio e fate bene nel buio si aggira una vichinga armata di lancia che vieni qua vieni qua vieni qua ormai l'hanno capito che devono sfuggire a gambe levate ma torna indietro cioè veramente hai il coraggio di allontanarti così tanto dal tuo villaggio torna indietro ti ho detto in ordine vieni qui mamma mia ma è impossibile beccarlo sono veloci sono tozzi ma veloci il gatto mi ha aiutato mi sta aiutando a ammazzarlo incredibile ah grazie hai fatto un ottimo lavoro altra pigskin però adesso è arrivato il suo amico che crede di fare il figo ma torna qui torna qui un fulmine mi ha quasi colpito ok penso che abbiamo fatto abbastanza per ora abbiamo sfrattato abbastanza maiali ne sfratto ancora uno e poi me ne vado ok dai l'ultimo questo lo lascio anche in vita perché non ho il tempo di ucciderlo e adesso ce ne andiamo ragazzi si torna verso la base che a dire il vero la base è anche abbastanza lontana spero di fare a tempo mi sa che non farò tempo devo buttare via il nitre e devo prendermi altra erba perché dobbiamo farci un fuoco chissà se possiamo farci il fuoco con l'erba bagnata non lo so ma dobbiamo correre prendiamo il sentiero no notte non venire proprio ora che devo andare a casa a costruire tantissime cose e no non mi aspetta la notte la notte non aspetta nessuno allora stiamo qui ci accamperemo qui per stanotte e possiamo un po vedere cosa fare intanto vediamo un po quanto mi recupera questa carne o quanto va meglio ora e volevo vedere se la carne di pianta può essere mangiata speriamo di sì sì si può mangiare ok perfetto comunque la sanità mentale sbaglio sta scendendo troppo con la pioggia forse scende di più la sanità no non può essere oh no e questo fuoco non durerà a lungo ok abbiamo un sacco di petali che non possiamo mangiarci e allora gli useremo per tenere vivo il fuoco ombra io e te ombra posso dirti una cosa vattene grazie e anche questa notte è passata siamo vicini alla nostra base ed è tempo di raccogliere fiori non capisco perché la mia sanità mentale continua a scendere così vertiginosamente e allora forse è perché ho il legno vivente dentro lo zaino l'ho levato e ora dovrebbe andare un po meglio speriamo speriamo no comunque dovremo costruirci qualcosa andiamo su structure se vediamo oh possiamo farci la casa dei maiali che bello e poi costruire cose aumenta sanità mentale quindi bene allora la casa dei maiali la dobbiamo fare lontana dalla nostra base perché se no se diventano pigmannari è un problema ne faccio una qui e una qui ne posso fare un'altra no ho finito i materiali comunque qua ci sono altri fiori più avanti dovrò farmi un caschetto per proteggermi anzi posso già farlo adesso mi pare ma sì mi faccio una ghirlanda qua nel caso ci siano problemi di sanità dovrebbe un po rallentare la discesa e ora c'è ancora una cosa che vorrei fare a dire il vero un frigo perché tra poco è estate o forse siamo già in estate guardate il pavimento mi sembra che sia più caldo ok va bene non importa andiamo su food qui e andiamo su icebox e mi sa che la metto qui che sarà la zona praticamente farm benissimo abbiamo fatto tutto ciò che volevo fare in questo momento purtroppo dobbiamo farci altre ceste perché qua va bene le carote le butto per terra non mi servono vediamo un po l'inventario ancora può tenere secondo me questi materiali li butto qui a terra tranne la pig skin che se la possono mangiare no ecco questi quali butto a terra comunque tornando sul da farsi allora pensavo per concludere questo episodio di tornare un attimo alla zona dei maiali perché lì ci sono delle rovine volevo un attimo esplorarle e per esplorare le rovine dobbiamo almeno avere una torcia almeno quella quindi mi sono preso un paio di bastoncini vediamo qua 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 ci sono altri bastoncini da raccogliere quindi ne prendo un bel po e mi prendo anche un bel po di erba di legna ne ho ancora un po quindi almeno un focolare lo possiamo fare va bene sto andando nella direzione giusta no sto andando nella direzione sbagliata devo andare dall'altra parte ah benissimo siamo arrivati alle rovine allora adesso penso che dovrò entrarci mi sono messo la ghirlanda addosso perché la sanità mentale va giù troppo velocemente guardate è troppo bassa come mai scende così è una cosa di questo personaggio non lo so però mi sembra che scenda troppo velocemente non è nemmeno notte e scende così tanto siamo di nuovo scesi nel luogo tenebroso e vedo che qui vicino c'è una tana di ragni ok ragni miei è l'ora che la zia wigfried vi faccia una visitina ok uno l'abbiamo ucciso adesso mi attaccheranno quasi tutti uno alla volta ok adesso arriveranno tutti pian pianino dai dai venite ok stanno arrivando stanno arrivando stanno arrivando uno alla volta venite qui da me mamma mia quanti sono ma quanti sono no 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 ritiro quello che ho detto adesso vi sistemo io oh ma che cavolo sono troppo forti no pian pianino li ammazzerò li ammazzerò tutti cosa mi hanno droppato aspettate no devo ucciderli tutti mamma mia questa guerriera è troppo forte ce la faremo ce la faremo ne manca soltanto uno mori mi hanno distrutto tutta l'armatura di legno comunque wetweber school oh no abbiamo trovato il teschio di weber e un mio iscritto che si chiama umberto e saluto grazie umberto mi ha spiegato che questo teschio possiamo usarlo per sbloccare il nuovo personaggio weber quindi dobbiamo soltanto trovare una tomba perché si sblocca con una tomba va bene almeno ce l'abbiamo questa roccia comunque la lascio qui non mi serve adesso tornando agli affari questa tana non mi piace vieni qua tana voglio ragnatelle le ragnatelle sono una delle cose più utile del gioco quindi più ragnatelle ci sono meglio è bene cosa mi hanno droppato spider eggs non so è una cosa nuova questa quindi adesso le tane droppano uova di ragno comunque dobbiamo muoverci dato che sono qui potrei spaccare questo scheletro per prendermi un po di bone shards ok penso di averne avuto abbastanza delle rovine non mi fido ad entrare con così poco cibo e tutto no torniamo di sopra ok è quasi notte e adesso mi è venuta in mente una cosa mi sembrava quasi che fosse luna piena quindi secondo i miei calcoli questa notte sarà una notte di luna piena esattamente è una notte di luna piena e questo significa che c'è un gloomer infatti è sponato è sponato il gloomer eccolo qui e c'è un fiore no ho preso il fiore e adesso col fiore lui mi segue fantastico e se gli spacco la statua la posso minare si la statua del gloomer cosa mi da ok cosa mi ha dato old bell blue print ok però la mia sanità mentale sta scendendo un po troppo deve essere questo mostro deve essere lui ok fatemi pensare lo uccido ok lo uccido mi sa che lo devo uccidere perché lui droppa una cosa molto interessante quindi mi dispiace ok l'ho ucciso guardate cosa mi ha droppato oh no aspettate cosa è arrivato chi è quello sembra un nemico assurdo ok mi sa che devo farmi un focolare intanto oh no non vicino ai pigmannari non vicino ai pigmannari via 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 no pigmannaro sta lontano sta lontano pigmannaro quanto ho di sanità bassissima l'unica zona con della sanità da queste parti è il luogo delle api è l'unica oh no come farò come farò come farò come farò come farò gabi sclerota no allora andiamo lì andiamo lì andiamo lì no via 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 lasciami in pace lasciami sto sclerando La mia sanità mentale è a zero È a zero, proprio zero Magico Vuoi tornare normale? Giorno torna, fammi sto favore Giorno Ok, oh grazie pig Ti amo Ma perché tutti i fiori sono maledetti? Tutti i fiori si sono trasformati in fiori maledetti Non è possibile Ok, devo ammazzare loro Devo ammazzare loro Le ombre, sono loro Sono loro che devono morire Ok, mi recupererò sanità mentale combattendo contro di loro Venite qui Venite qui, vi ammazzerò tutte Ok, venite qui Non ha paura, la vichinga non ha paura Non ha paura di voi Ok, l'ho uccise, l'ho uccise, l'ho recuperato anche sanità mentale Ok Tutte le sto uccidendo Non ha paura di voi, tornate qui Tornate qui Oh, sanità mentale recuperata Focolare, focolare subito E mangiamoci carne No, cosa vuoi tu da me? Perché vieni qui ad uccidermi? Oh Sta molto meglio ora Però non sono protetto Non sono più protetto al momento E Nightmare Fuel La lascio qui, non posso nemmeno prenderla Allora, i fiori Tutti i fiori si sono trasformati in fiori maledetti Ah, questa è una bruttissima storia Perché adesso Se tutti i fiori sono fiori maledetti Io come farò? Come farò a farmi recuperare di sanità mentale? Nemmeno i Green Cap possono salvarmi Dato che non li posso mangiare No Gloomer's Goop E poi prima ho visto un mostro stranissimo Che è spunnato quando ho ucciso il Gloomer Non l'ho mai visto prima? Non ci voglio pensare Speriamo di non rivederlo più Comunque siamo di nuovo tornati alla base Da queste parti devono esserci altri fiori Speriamo bene Intanto abbiamo la Old Bell Blue Print Che possiamo utilizzare per imparare una nuova ricetta Ok, l'ho imparata e abbiamo il Gloomer Flower Si può mangiare? No Poi mi sembra che sia quasi andato a male Va bene, questo lo lascio nel frigo Così non posso metterlo nel frigo Ok ragazzi, per favore scrivetemi nei commenti A cosa serve questo Gloomer Flower Perché non ne ho idea Voi siete i miei maiali da pascolo Li userò praticamente per farmi carne Infinita Qui vicino ci sono dei fiori Però Non ci sono più fiori Non vedo più nessun fiore qui intorno Va bene Dovete anche dirmi come farmi sanità mentale Perché Non ho idea Sì, qua c'è un fiore per fortuna Qui sì Ok, un po' di sanità mentale c'è Va bene ragazzi Sapete una cosa? Io penso di concludere questo episodio di Don't Starve qui Di cose strane ne sono successe Speriamo di andare avanti Intanto comunque abbiamo anche il Teschio Dai, ce la possiamo fare Mamma mia Questa guerriera però è fortissima in attacco Ci hanno attaccato un miliardo di nemici Siamo sopravvissuti Fantastico Va bene Quindi io penso che questo sia tutto per questo episodio di Don't Starve Io spero che vi sia piaciuto E noi ci vediamo al prossimo Ciao ragazzi 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 Ciao ragazzi